Senti, guarda, una delle cose più probate è la polizia del volo con uno del volo, secondo me, quindi... Senti, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno con l'extensione 550? Senti, la cusina, la cusina, per esempio, si interessava i romani americani? Molti. Senti, buongiorno. Buongiorno, io ho chiamato il vostro pass-mini, ma non c'era il vostro pass-mini, ma non c'era il vostro pass-mini. Questo è il controllo di Rom, parla. Abbiamo un problema con un'attacco, e dovremmo parlare con qualcuno. Hai un altro numero per chiamare? Un minuto, ho bisogno di ritmo di un'altra casa. C'era un'esercitazione? C'era un'esercitazione in giro? americana? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. il Grüno 002, quella è la uscità di . 18, 08, 19, 08, 20, 08 20 e 38 E ci siamo, eh? Aspetta 5 minuti Mario, guarda, l'autonomia sta scadendo sui 5 minuti. Allora, 42, 42, 42, 42, lo fanno? Aspetta per stai chiamando qualcuno, stai chiamando le altasci a casa. Sì, sì, già mi ha detto loro. Volevo saltare se voglio io direttamente. Avete avuto qualche contatto con Tertigonella? No, nessun contatto, si pensa... Chi si dovrebbe visitare, Martina Franca, pronto? Allora, we are calling from Rome Control, this is Ciampino Airport. Ma, scusami tanto la cosa, ma secondo me che hanno fatto la seconda cittadina, c'è la via dei Poli, grande che si è a Gering, non so. Guarda, la gering, la gering, la gering, la gering, la gering. La gering, la gering, la gering, la gering, la gering, la gering. E poi che ha fatto la cittadina? A me, la cittadina è la cittadina. Quando ci abbiamo incontrato con questo, la abbiamo... Ma, così vogliono, queste stesse, le vado a prendere, le condizioni, guarda, voglia. A Palermo stanno già in crisi eh, questo ha telefonato adesso qui uno dei giornali in Sicilia, è un poverso, ce l'ho detto infatti? Beh ce l'ha in Sicilia, sono... Comunque mi ha fatto una domanda sensata, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì abbiamo semplicemente perso... Grazie, 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 ma guarda l'unica cosa che era riuscire a peccare di qualche, di gente che avevano lasciato, era già riuscire a parlare con qualche americano di Sicilia. E come? Questo che io sto chiedendo a loro. E io quindi lo telefono a Napoli, ma poi quando lei ha cascato un patto, perché cazzo è chiamato gli americani, e che ha cascato un patto, perché cazzo è chiamato gli americani. Dai su, su, guarda un po' questa maniera, ma vediamo se lo tirano fuori. A Napoli è possibile che lo sanno. A me senza, non c'hanno niente di contatto con americani. C'è niente che non pensi, c'hanno niente di contatto. No, ma poi veniva a Stigonella, veniva per i capelli della terapia americana, che è finito pure a ridurre al culo quando c'è niente da venire. Quando c'eravamo indicitò, sembrava che fusi un'unità bomba. E io lo telefono a questa, solamente le stessi dove le fanno a me, ma non mi rispondi. Faccio, 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 faccio. Gli attacchi... Vabbè, 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 vabbè. Non d'è altro che inversi con americani, non li contattati. Eh, te casca il fatto. Gli ho evitori si avviciani? No. E allora come li ha avviciani? Sarei con loro delle porte. E li hanno indiavati.